30 giugno. Che tempo magnifico, Louise! Che sole splendente! Tutte le persiane sono chiuse. Ti scrivo in penombra. Così, Flaubert, a Louise Collet. Me ci sono imbattuto oggi e, malgrado la tua stoccatina, davvero faccio sempre delle citazioni, ho visto in quella frase un nostro segno di riconoscimento. Negli ultimi due giorni ho pensato spesso alla tua proposta, la tua strana richiesta di propormi a te, bambina, come fidanzato con decine d'anni di ritardo. Mi hai costretto a tornare con la memoria a un periodo che non ho amato molto. Non sono nemmeno sicuro di avere trovato la storia che potrebbe fare coppia con la tua. Di certo non con la ragazza che eri, disillusa e lucida, capace di prendere una decisione e di metterla in atto, così mi sembra, con determinazione e senza ripensamenti. A essere sinceri, Miriam, non sono sicuro che la ragazza che eri avrebbe voluto quel bambino come fidanzato. Avevo 13 anni, più o meno. Ma non starò a descriverti il mio aspetto da allora. Ti irriterebbe. E perché dovrei sfidare forze più grandi delle mie? Probabilmente, però, suscitavo un certo interesse perché un adolescente, anticappata del mio quartiere, mi rapì e mi sottopose a un intervento chirurgico senza anestesia. Ora dirai che, come al solito, descrivo tutto in maniera drammatica ed esagerata. Ma è esattamente quello che accadde. Non so quanti anni avesse. Non era nemmeno in grado di parlare. Mugolava. Una ragazza ossuta, mascolina, rigida. Una povera anticappata che io prendevo in giro, tendendo a guati a lei e a suo padre, che l'accompagnava nella passeggiata quotidiana. Lui camminava con un bastone per difendersi da lei nel caso l'avessi attaccato. Pensa un po'. Per qualche anno nel quartiere avevo condotto una campagna di derisione nei suoi confronti, inventando le cose più feroci per tormentare lei e il suo povero papà, scritte in gesso sul marciapiede, caricature. Giustamente mi chiederai, perché la prendevi in giro? Perché la mia mente spaventata si sforzava di puntare l'attenzione di tutti su di lei e solo su di lei? Come potevo ridere di una povera minorata? E quanto sarcasmo e veleno investivo in quegli sforzi? Meglio lasciar perdere. Insomma, un giorno lei riuscì a scappare di casa. Suo padre svenne sulle scale e tutti i vicini e i bambini del circondario si mobilitarono per cercarla. Arrivò la polizia e ci fu un gran casino. Io mi allontanai in silenzio da tutti e andai in fondo alla via, in una spianata dove oggi sorge un grande albergo. Lì, in uno degli angoli più squalliti, c'era un mucchio di rottami accumulati negli anni, vecchi materassi, fornelli, un frigorifero scassato. Insomma, tutto il ciarpame e le schifezze del quartiere. Dietro la discarica, vicino alla recinzione, c'era una siepe in cui si era formato un nascondiglio, piccolo e buio, che pensavo di essere l'unico a conoscere e dove mi piaceva appartarmi. Avevo la sensazione che si fosse recata lì, che il suo istinto animale l'avrebbe condotta in quel posto dove nessuna persona normale sarebbe mai entrata. Infatti, quando valicai la linea della penombra, lei si gettò su di me e in quel momento capì con una sorta di strana rassegnazione che mi stava aspettando. Sai, non ricordo quando tu mi abbia chiesto, forse parlando del parafulmine, se in vita mia ho mai gridato aiuto sul serio. A squarciagola, cioè con la gola che ti si lacera e gli occhi strabuzzati per la disperazione e lo sgomento. Perché poi me l'hai chiesto? Forse quella volta, quando lei mi trascinò nel nascondiglio, avrei dovuto urlare così. Invece rimasi zitto. Questa è la storia, Miriam. Lei mi buttò a terra, si stese su di me e senza perdere un secondo con una forza tremenda cominciò a strusciare il suo corpo contro il mio, come se fossimo due pietre focaie. Non potevo muovermi. Era come se avessi perso conoscenza. Però vidi e sentii tutto. Lei era seria. E' come presa da una folle idea che le palpitava dentro. Un'idea assurda che io solo al mondo potevo capire esattamente. Non si trattava di qualcosa di sessuale. Voglio dire, non sessuale nel senso corrente del termine. Era qualcosa di molto più complesso e occulto. Come spiegare? Era come se lei volesse frantumare i materiali di cui entrambi eravamo fatti. Devo entrare nei dettagli? Tutti i materiali intendo tutte le polveri sue e mie. Perché? Non so. Lo so, lo so. Per poterci ricreare migliori. Per riequilibrare, se questo è il termine. Riequilibrare o compensare tutto quello che forse eccedeva o difettava in lei e anche in me, nel corpo e nell'anima. Ma è possibile capire una frase del genere? Ha senso anche al di fuori di me? Lei avrebbe voluto semplicemente ricrearci entrambi, in maniera più equa e forse più sopportabile ai nostri occhi, senza gli eccessi e le mancanze. È una storia strana. Una ragazza anticappata voleva ricrearmi. Ti giuro. Era questa l'idea fissa che frullava nella sua mente contorta. Solo io l'avevo capito e per questo non gridai aiuto. Era una cosa tra me e lei. E non riesco a credere che te lo stia raccontando. Che ne dici? Quel bambino avrebbe potuto essere a modo suo un fidanzatino per la ragazza che eri? Filosofica e istruita? Ricordo che lei prese la mia mano sinistra e che per dieci, venti, cinquanta volte spinse le sue dita ruvide tra le mie. Quindi fece lo stesso con la mano destra, poi spalla contro spalla, petto contro petto, ventre contro ventre, sistematicamente, con puntiglio, mentre i suoi occhi spenti brillavano per quell'idea grandiosa, senza badare a me. Quella fu la cosa incredibile che mi ipnotizzò completamente. Aveva una questione da risolvere, ma non con me, bensì con quello che rappresentavo. Nel mondo illuminato non avrebbe avuto alcuna logica, ma nel buio sapevo e sentivo, chissà perché, che lei desiderava anche il mio bene. Come se cercasse di mescolare con cura le carte dei nostri mazzi, per ridistribuirle in maniera più giusta per entrambi. Capisci? Lei sola aveva intuito, con i suoi sensi genio-animaleschi, quanto soffrissi per ciò che mi aveva riservato la lotteria della vita, e quanto, anche in me, tutto avesse disperatamente bisogno di restauro. Riesci ancora a seguirmi, Miriam? Dimmi solo se è possibile raccontare una cosa del genere a qualcuno e sperare che capisca davvero. Dimmi se un uomo può raccontare questa a una donna che sta corteggiando, o se un marito può raccontarlo alla moglie mentre prendono il caffè. 5 luglio Sono andato, ho comprato, sono tornato. Una cappatina di tre giorni ad Amsterdam, Parigi, Svizzera. Affari. Un buon acquisto di due pezzi rari, ricchiestissimi a Zurigo. Uomo di mondo, bonbon. Quando l'aereo è decollato ho provato una fitta inaspettata e ho scoperto che tra me e te c'è un cordone umbilicale che fa male quando viene teso. Cosa ti ho portato dalla spumeggiante Parigi? Un profumo che fa perdere la testa? Un gioiello? Degli slip sexy? Il mio incubo, quando mi trovo nelle grandi città europee, sono i figli delle mendicanti. Sai di cosa sto parlando? Di quelle donne indiane o turche sedute per strada o nelle stazioni della metropolitana, che hanno sempre un neonato o un bambino sulle ginocchia. Già da un po' ho notato che quasi sempre i bambini dormono. A Londra, a Berlino, a Roma. Ho il sospetto che le madri li anestetizzino di proposito, li droghino, perché un bambino addormentato fa ancora più pena e aiuta gli affari. A Parigi, di fronte al mio solito albergo, c'era una donna turca con un neonato e il giorno dopo ho cambiato albergo. Non è solo la crudeltà a deprimermi, ma l'idea che quei bambini passino la loro vita dormendo. Pensare che c'è un bambino, e ce ne sono centinaia così, che per anni, forse per tutta l'infanzia, vive a Londra o in un luogo magnifico come Firenze, senza quasi vedere la città, sentendo solo nel sonno i passi della gente, il rumore delle macchine, il battito del cuore della metropoli, e che, svegliandosi, si ritrova nella misera topaia in cui vive. Quando mi imbatto in una donna così, per strada, le do sempre qualcosa, e nel farlo fischietto anche una bella canzone, allegra, con tutte le mie forze. Sono tornato. 7 luglio Buongiorno. Oggi sono arrivate due lettere. Da tempo aspettavo il momento in cui, non riuscendo a trattenerti, dopo aver chiuso una busta, avresti sentito il bisogno di scrivermi subito un'altra lettera. La prima è arrivata questa mattina, l'altra con la posta del pomeriggio, i piaceri dell'intestatario di una casella postale, e sono entrambi allegre ed entusiaste. La prima scritta a casa, e l'altra, quando hai cominciato ad avere caldo e a sentirti soffocare, nella tua valle segreta, vicino a Ein Kerem. È stato stupendo incontrarti finalmente con parole del tutto nuove, e una nuova gonna, per di più. Come respirare una ventata d'aria fresca. Ed è stato stupendo sentire il tuo tono di meraviglia quando dici di essere felice, ultimamente. È la prima volta che questa parola compare nelle tue lettere. L'ho subito mandata ad analizzare in laboratorio. E mi hanno confermato che si tratta proprio di felicità. Sto solo cercando di capire come mai la tua felicità mi appaia ancora tanto triste. Ma oggi questa parola ha degli effetti anche su di me. Un'effervescenza interiore, non so. Un'effervescenza interiore, non so. Forse perché sono finalmente riuscito a allegrarti. Perché grazie a questo, improvvisamente, l'estate è esplosa anche per me, capisci? Come se solo ora, in virtù del tuo apriti sesamo, fossi uscito anch'io dalla galleria scura e tortuosa che abbiamo scavato insieme, con le nostre complicazioni e il senso di oppressione. Sono felice, hai detto, ed è stato come se tu mi avessi concesso qualcosa. La bella stagione è iniziata anche per me. Già luglio, immaginati un po', e solo ora mi risveglio all'estate accecante, con le sue forze vitali, la sua volgarità naturale, la sua voglia di vivere e tutto quello che hai descritto. Mi sorprende che tu abbia ancora paura di tornare a dipingere con i colori, una persona che scrive così. Anch'io, toccami, di colpo sono così vivo, ardente. Mi amalgamo con il corpo dell'estate, come se fossi una delle sue arterie pulsanti, ma sono anche puntato su di te, come un laser. Attenta, non sono responsabile delle mie azioni, non so cosa mi stia succedendo. Hai qualche idea? Cosa ne dici? Magari smetterò di lavorare e di vivere nel mondo, nella cosiddetta vita, per limitarmi a scrivere, a descrivere te in ogni situazione e a raccontare come mi sento mentre ti guardo, a riversarmi dentro di te, finché semplicemente i miei succhi si esauriranno. Quando impiccano un uomo, nell'istante supremo, ha un'eiaculazione. L'ho letto una volta, ed allora questa cosa non mi dà pace, quasi fosse il testamento del corpo e dell'anima. Esattamente così vorrei che fosse il dialogo tra noi, perché tra qualche mese moriremo l'uno per l'altra, anche se tu non ne vuoi sentir parlare. L'idea di quella ghigliottina ti fa rivoltare lo stomaco. Ai miei occhi, però, è il fulcro del nostro legame, perché forse, nella vita di una coppia normale, non può accadere quello che accade tra noi, qualcosa che al tempo stesso ha il sapore dell'ambrosia e del sangue. Tu già lo senti. Io lo sapevo fin dall'inizio. Pensavo che la storia della ragazza anticappata ti avrebbe disgustato, e invece tu, come al solito, vieni e mi tocchi a mani nude. E allora? Davvero non vorresti ridistribuire le nostre carte? Davvero ad attrarti sono le mie carte mescolate alla rinfusa? Ma solo per iscritto. Lascia che rimanga così, con la speranza di avere entrambi la forza di combattere ancora le seduzioni della realtà. Il sesso, non la religione, è l'oppio dei popoli. E quando ci incontreremo, perché alla fine ci arrenderemo, sono un po' fragile oggi. Il caldo scioglie i propositi più fermi. Spero che non accada. Ma forse, tra due o tre settimane, se non già stasera, in questo accesso feroce che mi sta facendo perdere la testa, è colpa della gonna che hai comprato. Improvvisamente hai un corpo. Il tuo corpo, che ero quasi riuscito a dimenticare, d'un tratto è risorto davanti a me. Le tue gambe si sono mosse, giovani e belle, sotto la gonna, e non dire nemmeno per scherzo, non sapevo di avere delle gambe. Mi sono tornate in mente le tue caviglie affusolate, e ho afferrato il nesso tra la forma delle caviglie e la nuca. Ci arrenderemo, ti è chiaro, vero? Quando nel cuore si sarà accumulata una dolcezza triste, pastosa e pesante, nettare d'autunno. Yair si è fatto poetico. È il nettare dell'estate. Bene, per quanto tempo riusciremo ancora a trasformare questo sperma in inchiostro? È colpa dei tuoi occhiali dalla montatura nera, se evito di scriverti cosa mi sta passando per la testa e dove esattamente ti immagino. Con i vestiti, senza vestiti, con quella gonna arancione che ha uno spacco laterale, con la maglietta morbida e aderente, in piedi, distesa, un po' selvaggia, con l'aria dolce, in auto. Le tue caviglie sottili avvinte intorno alla mia schiena. Amo io dalla voglia che avvenga un miracolo e che tu mi compaia davanti per caso, in strada. Dove eravamo? Non ho la più pallida idea di come farò ad alzarmi da questa scrivania davanti alla mia segretaria, diplomata a Beit Yaakov. Di certo ti chiederai cosa voglio da te, tutta un tratto, perché faccio impazzire entrambi in questo modo. Non lo so. So solo che ora ti desidero disperatamente. Ma sono anche sicuro che ci è proibito persino osare di porre un piede nella realtà. Tutto si scioglierebbe, perderebbe vigore, ricadrebbe nei soliti cliché. I mille fili sottili e trasparenti con cui abbiamo ricamato noi stessi. Di colpo questa stratta bellezza si materializzerebbe nella carne e andrebbe perduta in un istante. Credimi, so quello che dico e ripeto. Esisteremo solo per noi, anche se pensi che non abbiamo niente da nascondere, nemmeno al tuo amato marito. Ecco, questo non potrò mai capirlo. Perché fargli del male? Perché umiliarlo? In base alla legge di compensazione della felicità è già tradito, ingannato e inconsapevolmente depredato di quello che c'è tra noi. Ancora una volta devo interrompermi. È arrivato un pacco. La vita continua a metterci il becco. Andrò avanti stasera. Voglio continuare a parlare di questo. 10 luglio Non ci credo. Rifiuto di credere che tu mi abbia fatto questo. Cosa sei? Un avveggente? Hai degli occhi aranci X? O era la lettera più bella che avessi scritto? Non c'è in te un briciolo di curiosità a semplice curiosità femminile? Come hai potuto resistere alla tentazione? Forse non sono una tentazione per te. Mi sforzo di capire cos'è successo. Come funzioni questo tuo meccanismo? Tre giorni fa hai ricevuto quella lettera, scritta sull'onda dell'entusiasmo per l'estate e per la tua nuova felicità. L'hai letta, ma quella successiva, spedita più tardi, la sera e molto buffa, hai deciso per qualche motivo di restituirla, chiusa e sigillata. Per quale motivo? Per il calore dei fogli che filtrava dalla busta? Per il modo in cui avevo scritto l'indirizzo? E se ci fosse stata la mia anima ripiegata là dentro? A volte la tua arroganza mi fa davvero impazzire. Sei così rigida, te l'ho già detto, e in modo sgradevole, non femminile. In verità me ne ero già accorto dalle tue prime lettere, ma a quel tempo la serietà, l'attenzione che mostravi per tutto quel che dicevo mi erano piaciute. Ora invece è come se le acque si fossero ritirate e fosse affiorato lo scoglio. E che intransigenza? Ogni dissidio su quel punto mi fa male, mi fa male come un tradimento, e io devo difendermi. Tradimento, niente meno. Viene da pensare che abbiamo sottoscritto un contratto per la vita, non che abbiamo semplicemente deciso di scambiarci delle lettere. Senti, non è così semplice quello che hai fatto, e più ci penso, più mi sembra che tu abbia tradito me. Per qualche mese ti sei divertita con quell'innocuo pagliaccio che ti faceva delle smorfie, concedendoti qualche piccola eccitazione borghese. Il flirt segreto di una casalinga per bene. Poi, quando ha cominciato a farsi troppo intenso, quando improvvisamente hai sentito dentro di te un fremito autentico e vivo, ti sei spaventata, e hai cominciato a gridare aiuto. Leggo la letterina spermicida che hai accluso alla mia busta ancora chiusa, e stento a crederci. Adesso, dopo tre mesi, ti viene in mente di accusarmi dicendo che florteggio non con te, ma con una perpetua tentazione di infedeltà dentro di me. Un autocorteggiamento interiore? A volte usi delle espressioni anacronistiche e puritane, che mi fanno morire. E con quanta sicurezza ti permetti di stabilire che, pur desiderando di liberarmene, è proprio questa tentazione incontrollata, automatica, a non volermi abbandonare, così che provo un godimento perverso nell'umiliare e imbruttire tutto quello che è veramente prezioso e puro. È per ciò che ho scritto in fondo all'altra lettera, vero? Per quell'osservazione a proposito di tuo marito. Me l'immaginavo. È stata quella a farti trasalire. Ho sentito che stavo toccando un punto delicato. Ok, mi dispiace, chiedo scusa. Prendi atto di una confessione. Non è umiliato, tuo marito, né tradito, depredato o ferito, in virtù della legge di compensazione della felicità. Ecco, lo sottoscrivo con la mia impronta da criminale. Certo, che ne so di lui. E che ne so di voi due insieme. Hai ragione. Hai sempre ragione, Miriam. Che ne so dei rapporti non solo improntati alle leggi di guerra e di conquista dell'anima altrui. Basati su altro che il gusto di sottomettere o di arrendersi. Ma cosa ne sai tu di cavalli alati, di sirene e dell'unicorno? No. Lo devo sentire da te. Che ti importa di incontrare questo Don Giovanni dilettante? Non è una delle carte mescolate alla rinfusa? Non ha bisogno di misericordia o di restauro? A volte penso che forse avresti dovuto incontrare solo lui. Forse lui sarebbe stato in grado di farti morire dalle risate e dal piacere, di fare a pezzi questa tua intransigenza. O forse fai fatica ad accettare il fatto che non ti ho mai proposto un'avventura secondo lo stereotipo. Nemmeno vorrai scusarmi una scopata. Forse è stato questo a offendere la bambina modello, la reginetta buona della classe, che non si è mai lasciata andare, impedendo così che la sua fiamma divampasse. Si è offesa terribilmente perché, come allora, un maschio, apparso all'improvviso, si interessa a lei solo come amica con cui parlare e confidarsi, non per sussurrarle nell'orecchio il suo amore e il suo desiderio. Questo lo fa con qualcun'altra, con la biondina sprontata della classe, con la reginetta cattiva. Cosa ne sai, Miriam? Forse questo maschio, a distanza di oltre vent'anni, comincia a sospettare. Che tu non sia tanto sincera quando affermi che, no, non hai paura della passione. Tutt'altro, la passione è il sale della tua vita. Ma chi vuoi ingannare?